Grazie a tutti, ho una buona notizia per voi che vi do subito, io sono comodamente rimbambito credo fosse alle 3 e mezza, qui sono in ritardo, lui che invece è un uomo serio, era di lì nella stanza che fremeva, mi telefonava dove sei? La buona notizia però non è questa, è che alle 4 e mezza c'è un altro evento, per cui per le 4 e mezza ce ne dobbiamo andare per forza quindi pensate che colpo, non dovete sopportarci troppo a lungo. Che facciamo? Beh insomma io pensavo che la grande notizia era il governo, perché mentre noi stiamo parlando una macchina è partita da Montecitorio dentro a bordo c'è l'onorevole Letta, nipote, e sta andando al Quirinale, naturalmente dovrà vedere Napolitano, fargli vedere la lista dei cosi le voci sono le più spaventose scusa, 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 scusa non interrompo, la lista dei cosi? eh sì ah ecco, non avevo capito bene ma loro sì e naturalmente c'è tutta un'epopea dei nomi cancellati nell'ascensore, quindi nessuno è in grado di dire niente però insomma considerato che abbiamo votato due mesi fa forse anche questa è una buona notizia ecco, oltre alle nostre insomma tutto questo Filippo crea altri reperti per le tue future ricerche archeologiche, le rovine dell'Italia contemporanea perché come dice il tuo libro, che io ho persino letto, cosa che di solito chi fa le recensioni non fa mai si legge la biografia dell'autore, quello già la conoscevo, il risvolto di copertina e si danno giudizi, i più onesti come sai Filippo scrivono le recensioni dei film o dei libri pur non avendolo letto è chiaro che il film è una porcata, no? C'è sempre questa premessa se lo leggessi scoprirei che non mi piace no ma è un libro di impressionante attualità nel senso che Filippo, se non l'avete visto questo libro, se non leggete le cose che lui fa ormai per sua sventura quotidianamente per Repubblica perché lui fondamentalmente è un romano, quindi è pigolo, non c'ha voglia di fare niente e lo costringono tutti i giorni a frustate a scrivere perché è il momento di queste cose è una ricerca secondo me meravigliosa di tutti questi frammenti senza cercare di fare un grande affresco dove va l'Italia, da dove veniamo, dove andiamo, chi sarà ma lasciando che siano i piccoli oggetti, le cose, le piccole notizie a parlare e sembra veramente di leggere la storia della Repubblica Romana, quell'altra e dei primi anni dell'Impero che conosciamo attraverso frammenti non ci sono grandi saggi che ci raccontino l'inizio dell'Impero, Ottaviano Augusto ci sono i libri di Giulio Cesare ma quelli forse erano un po' di parte, diciamo, avevano qualche interesse e quindi noi conosciamo la storia attraverso i frammenti e lui fa la storia del presente attraverso i frammenti di notizie di queste piccole notizie di questi piccoli fatti straordinari me ne sono segnati qui alcune migliaia ma ve le risparmierò alcuni però cioè la macchina ha colpito moltissimo la macchina del sindaco Alemanno tamponato da una macchina guidata da un cinese immigrato clandestino cioè c'è tutta la metafora di tutte le automobili che circolano da Roma Alemanno, il sindaco del Roma i romani, basta, questi stranieri bam viene, come si dice a Roma, a infrociarsi ma non è molto corretta come espressione sì, da una macchina ci sono diversi frammenti automobilistici uno vede la Mussolini cascare con la macchina dentro una buca quindi è un altro è invece in due casi sono andati a infrociare sul palazzo dei Berlusconi in notti elettorali un autista e un avvocato di Frosinone con una Porsche che hanno sfondato le fioriere però vedi si vede un elettorato medio alto sono presaggi di ordine e poi quando c'è stata la neve un albero è cascato sulla macchina di Azzurra Caltagirone in Casini e quindi non si lascia scoprire è pieno di segni poi non voglio adesso annoiare particolarmente chi ci ascolta ma esiste una poetica, una storia importante in Italia di quello che si chiama se non mi sbaglio il frammentismo era una corrente letteraria dell'inizio del secolo scorso che ha avuto forse siamo l'esponente più famoso e l'opera più famosa in Eugenio Montale con i suoi ossi di seppia ecco tu fai più che altro ossa di pollo perché insomma la materia è quella la Roma di oggi mi pare ma insomma quali sono oggi i frammenti che uno storico del futuro un ricercatore, un gufo tra l'altro apprezziamo anche la capacità di sfidare la superstizione non dice uno storno tra le rovine un'aquila come quella della Lazio allo stadio che fanno volare un gufo lui poi con quegli occhiali un po' vero un pochino ecco come ti è venuto in mente di definirti un gufo ma io mi definisco il gufo però diciamo qui c'è il gufone nel senso che sono in grado di documentare che quando le elezioni erano diciamo a due o tre mesi e dovevano andare in un certo modo io ebbi una corrispondenza con Vittorio Zucconi che allora era negli Stati Uniti gli ho detto vabbè insomma poi ci vediamo a Roma e lui mi ha risposto sì sì ci vediamo a Roma la notte delle elezioni dove in redazione si lavora eccetera e per la veglia funebre ed erano nel frattempo gli altri avevano già cominciato a fare il ministro gli interni a fare un sottosegretario alla presidenza eccetera no in realtà ecco sono sette io l'ho contati dopo sono settecentosettantasette frammenti di che e qui il gufo poi mi viene un po' da solo nel senso che che preannunciano allegramente non allegramente buffonescamente il 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 cataclisma che c'è stato perché poi noi ridiamo 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 però non si sta mai veramente allegri in Italia no per cui è successo quello che non doveva succedere e che invece non poteva che succedere nel senso che esiste un un nesso una una relazione un qualche una corrispondenza per lo più inconfessabile tra le buffonate e le catastrofi questo è un po' è tutta una cosa tutta nostra è una cosa tutta italiana è una storia italiana per cui le rovine ho visto che l'altro giorno sul mio giornale c'era un'intervista a uno storico si chiama Salvatore Lupo è un bravo storico che non so più solo le rovine sono le rovine fumanti cioè questo per dare un quadro ancora più leggiadro alle cose nostre là dove il fumo è costituito dallo spirito dallo sghignazzo seriale e e anche crudele per cui per rimanere ai giornali di oggi proprio di oggi che ho letto venendo qua sul treno ci sta sempre a proposito di macchine il diciamo il partito del sud Tirolo che ha fatto una pubblicità dove si vede Berlusconi dentro una 500 che va a sbattere tanto per cambiare c'è scritto per non finire come l'Italia quindi proprio già quando c'è la raffigurazione la cosa è già avvenuta poi ci abbiamo avuto sempre oggi Dario Fo perché poi i comici o comunque che ha fatto la battuta non gradevole su Brunetta il seggiolino c'è ormai una letteratura di Brunetta e il seggiolino quindi le cose si ripetono purtroppo c'è anche sempre Brunetta e c'è anche Brunetta o quello è anche il problema e poi ci sta Grillo perché poi che dice bunga bunga tira in ballo quella roba là insomma innominabile la merda il discorso pubblico di Grillo ruota attorno alla merda e alla morte questo tanto per darci una allegria gli zombie e poi il porno ricatto ai deputati 5 Stelle a cui fa da pandan sempre graziosamente molto italiano le carte di dalla chiesa che si è trovata la borsa ma non ci sono le carte quindi c'è anche un qualche cosa di torvo che accompagna le vicende nostre pubbliche e poi ci sta io ho trovato però irresistibile ogni diciamo miniaturista si innamora di certe cose io trovo straordinaria la vicenda delle spese dei consiglieri regionali in giro per l'Italia e la notizia di oggi straordinaria quella che adesso tocca a quelli della Basilicata i più bravi i più curiosi oggi c'è uno stesso che si è pagato la cresima della nipote e poi una collaboratrice estemporanea che si capisce chiaramente che è una sì è una collaboratrice estemporanea però oggi è uscito fuori l'orsetto di peluche beh ecco questo è proprio la 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 noi abbiamo c'è un pezzetto di questo orsetto che è pure nostro comunque è la signora che cenava contemporaneamente in due ristoranti diversi nello stesso momento ma è un minimo di pudore quindi sono queste cose qua eh però tutte insieme certo tu hai detto una cosa che quando io ho scritto l'ho scritto ci vediamo per la veglia funebre è un po' la sfrontatezza di chi sta lontano e non essendo come voi immersi quotidianamente il più 2% il più 3% vede delinearsi una situazione quasi inevitabile perché ne parlavamo credo anche ieri non so in quale occasione qui si parla talmente tanto che uno pietosamente si dimentica di quello che ha detto allora dicevo se io ripenso la campagna elettorale Filippo allora che cosa ha promesso Berlusconi lo sappiamo tasse l'Imu vero non vero Berlusconi uguale meno tasse meno Imu e arrivederci poi Beppe Grillo cosa ha promesso tutti a casa tutti a Vaffa tutti i Gosa io mi diverto a dire che più che Scientology come dice la scatology il movimento di Grillo perché ha una tendenza diciamo al gastro enterico e quindi c'era la promessa li mandiamo tutti a casa tutti a Fangolo benissimo è una promessa visto che sono una banda di sciagurati dice cosa ha promesso Bersani ecco offrirò 10 euro a chi si alza e dice me lo ricordo io io mi ricordo cioè allora siccome io ho fatto tante campagne elettorali americane primo la persona deve incarnare il messaggio non ci sono né santi né madonna adesso che è finito il socialismo il leninismo il marxismo il parallelismo ormai si vota per le persone è chiaro che quando Barack Obama ti piace o non ti piace sia un disastro o una meraviglia ti dice io voglio il cambiamento lo vedi e dice eh certo che più cambiamento di lui arriva questo ragazzo ragazzo per me sì alto di colore figlio di uno straniero e di un'americana è certo che lui incarni cambiamento quando il suo avversario dice no no che cambiare va benissimo così è un signore multimiliardario ricco è certo che lui non vuole cambiare perché dovrebbe cambiare quindi quando tu fai una campagna elettorale non hai né la persona che usiamo questa orrenda parola il carisma la cosa né un messaggio chiaro ma come pretendi poi di vincere le elezioni perché hai ancora i resti di un apparato politico che oramai sopravvive a se stesso e a mille cose quindi non poteva che andare a finire così dal mio punto di vista visto da lontano questo è questo governo in cui tu dici quei cosi che poi ancora non abbiamo i cosi dei sottosegretari perché poi lì pure cominciamo con i viceministi i sottosegretari a me viene in mente quei matrimoni il matrimonio all'italiana di una volta o il matrimonio alla texana quelli che si chiamavano in inglese i shotgun wedding quelli in cui si andava all'altare perché la fanciulla diciamo era stata messa in condizioni imbarazzanti da un ragazzo e allora il padre di lei con la doppietta nella schiena del marito la conduceva all'altare dove serenamente si sposavano giurandosi eterno amore qui è evidente che c'è Napolitano con la doppietta dietro la schiena di Letta che lo sta conducendo all'altare del Quirinale e tutti gli altri dicendo se non fate questo matrimonio io tiro il grilletto e buonanotte salta per aria a tutti quindi però adesso dimmi scusa quando ti ho paragonato a Montale un po' ti sei montato la testa adesso la riconosciamo questo festival del giornalismo meraviglioso è anche un grosso massaggio alla famosa ghiandola della vanità che noi giornalisti abbiamo molto ipertrofica come sai bene si comincia così e poi si comincia così poi d'altro che Berlusconi però adesso voglio cominciare a leggere qualcosa di questo libro ma io non ti vergognare hai scritto tu non lo so in realtà è una è una è una di quelle cose che in realtà io non riesco ancora a capire se è una cosa che fa ridere o se mette ansia ferma fermo Nicol Minetti già si avverte qualche tutte queste sono notizie vere non pensate i giornalisti le balle occasionalmente ma queste sono tutte vere Nicol Minetti porta impresso sul cotone notate la malizia no dice un pesante lana irlandese sul cotone della sua t-shirt la scritta senza t-shirt sono ancora meglio il capogruppo dell'IDV in Lombardia Zamponi ne indossa una di risposta che dice finché non vedo non ci credo beh mi pare un uomo politico serio con un giudizio obiettivo non so se ne vuoi leggere qualcun'altra ma una che a me fa impazzire è questa che riguarda un altro personaggio come dice giustamente Filippo di questa tragica media all'italiana non mi voglio imbarcare adesso in storie della letteratura del teatro ma il teatro italiano non ha mai prodotto né grandi tragedie né grandi commediografi per vincere un premio Nobel l'abbiamo vinto con Dario Fo che mescola le due cose fa il buffone tragico fa mistero buffo fa contemporaneamente la tesi e l'antitesi di se stesso noi abbiamo inventato le maschere abbiamo inventato la commedia all'italiano Capitan Fracassa poi ripreso da Tion Filgotier però è un personaggio italiano pensate quanti Capitan Fracassa ci sono nella politica italiana in questi anni no? abbiamo dei Capitan Scassa ma anche dei Capitan Fracassa i Balanzone gli Arlecchino servitori di vari padroni i Pure Genella tutti i quali questa è la commedia all'italiana che come sapete ha sempre un grande fondo tragico e uno dei personaggi che a me fanno impazzire di più perché ha una profondità e uno spessore è Formigoni Formigoni dice il professor qui presente Ceccarelli Filippo che è molto nervoso perché dice non è abituato a parlare alla gente ma non è vero fa la civetta fa anzi il bufo nella vicenda non specchiatissima apprezzate l'understatement molto british della fondazione Maugeri che ha coinvolto Antonio Simone di Estricio anche Formigoni tra i comportamenti che destano l'interesse degli inquirenti c'è quello di giustificare esborsi di danaro attraverso progetti di ricerca dice che non si fa la ricerca in Italia questo usava ricerca uno di questi progetti di ricerca fatto dalla regione Lombardia era mirato a calcolare la capacità di sopravvivenza dell'uomo su Marte abbiamo i cellini su Marte ma chi gli frega la regione Lombardia di sapere se un uomo si può vivere su Marte a malapena gli fa la NASA non riesce ad avere fondi la NASA il Parlamento americano gli è rivoltare ma basta con sta Marte no formigoni spende quindi vedi che c'è tu sei un cinico pessimista malvagio forse anche lievemente di sinistra ma adesso non vorrei metterti in cattiva luce col pubblico e dice la cresima il sushi la nutella c'è anche gente che spende i soldi pubblici per stabilire la possibilità di sopravvivere su Marte devi essere generoso Filippo ma formigoni è una fonte è una miniera di cose è una delle cose perché c'è un capitolo dedicato anche alla religione si conguaglia si conguaglia e c'è la a un certo punto c'è un roteare di barche di yacht su cui indaga la magistratura con dei nomi stranissimi questi yacht eccetera poi ce n'è uno in cui trovano dentro un altarino per pregare per fare la messa cioè si scoprono gli altarini accadono proprio cose nell'Italia in cui proprio letteralmente le antiche modi di dire hanno una loro rilevanza però il dato della tragica commedia la trasformazione della vicenda politica italiana è una delle grandi storie collettive dello scorso secolo oppure ci sono state non è che si sono rinvoltolate oppure sono degradate in una specifica forma di commedia che è il cinepanettone cioè il cinepanettone è realmente dentro la vicenda politica italiana al punto tale che il braccio destro del ministro dell'economia Tremonti che si chiamava milanese quello ha deciso nella sua vita di passare un capodanno a New York con Christian De Sica e la Ferilli è una cosa che comincia a dare il piloto all'impiegato dell'azienda che gli deve naturalmente pagare il viaggio non solo per i biglietti per tenere le relazioni con questi attori eccetera ma per avere lo stesso piano nell'albergo quindi evidentemente lui sta dentro questo film ma è pieno di cose di cinepanettone la visita di Gheddafi a Roma con la tenda a Villa Panfili Berlusconi che dorme mentre c'è il museo sul razzismo italiano i torpedoni con le ragazzette che gli portano è una cosa di cinepanettone le nozze di Briatore vicino in Vaticano con il cardinale che le celebra e fa l'omelia sulla fedeltà matrimoniale Briatore sta al terzo di matrimonio è un cinepanettone è una salvo Vittorio che a un certo punto il cinepanettone non basta più e si arriva alla farza e arriva il bagaglino cioè c'è un ulteriore scivolamento nelle vicende nella vicenda pubblica ed è appunto la trasformazione del cinepanettone poi ci fermiamo perché capite che dopo non è che c'è molto altro allora Filippo la domanda però è è il cinepanettone che imita pur parodiando la vita la vita di una certa classe di persone o è il contrario perché da quello che tu racconti del viaggio di Milanese il personaggio assunto alle cronache è vero per me chi è che imita chi o c'è un'identità o è lo stesso albero che produce questi frutti apparentemente è possibile che non ci sia che non c'è un'alternativa tra le due cose sono conciliabili allora qui adesso ti metto in difficoltà io ho scritto una volta ormai con lo più se twitter facebook non si capisce più niente uno scrive vada queste botti ti arrivano poi i barri di soldi ma affa va bene ho scritto io non ho mai visto un cinepanettone io sono uno che domani corre a Roma per vedere Chievo Atalanta in televisione cioè non dovete pensare a uno snob sfoglio un po' Egel prima di addormentarmi qualche paginetta di Cantani e io sono però io il cinepanettone non l'ho mai visto mi scrive una collega non ti dirò il nome ma una collega che dice ecco perché la sinistra non vincerà mai le elezioni perché voi snob intellettualini radical chic a me dello chic me l'ha mai dato nessuno quindi è un insulto che non tollero vada il cinepanettone e non capite il popolo eccetera cioè è vero secondo te siccome dubito che anche tu abbia visto molti cinepanettoni ma no perché poi sono sì o no non di ma no non fa il politico hai visto o non hai visto tre quattro ah c'è speranza per la sinistra in tanti anni però sono i meccanismi i dispositivi dello spettacolo del cinepanettone sono quelli classici dell'antica commedia gli scambi di persone sì ma è per quello che la sinistra non vince le elezioni che c'è la puzza sotto il naso po' sì però non è che adesso i cinepanettoni poi ti annoiano cioè devi ne abbiamo talmente tante che non c'è bisogno del cinepanettone e per dire qua succede una cosa che ho scritto sulla riviera triatica porto saltelpidio pizzicano un egiziano di 19 anni con 20 grammi di eroina e un po' di soldi allora lo ferma lo stanno a fare entrare nella nella macchina della polizia e lui dice fermi tutti io sono il fratello di rubi ma è vero cioè non è una cosa così oppure sul la lega la lega altra produttrice di cose meravigliose ci stanno a un certo punto c'è c'è un sindaco del non mi ricordo dove insomma è un posto che fa il risotto verde per festeggiare bossi maroni eccetera e via fuori che fanno io l'ho visto in fotografia era una cosa spaventosa uno ogni tanto mangia gli asparagi però insomma questo era e poi ho scoperto che ci aveva messo il blu di metilene per far quindi cioè si va sulla follia comunque la lega organizza sulle sponde del ticino un gioco maschio tiro alla fune i leghisti lombardi da una sponda i leghisti piemontesi dall'altra oh si rompe il filo si rompe la corda ma finiscono al pronto soccorso Giorgetti quello della commissione che adesso sta facendo tutto quanto è finito al pronto soccorso quindi accadono cose stranissime poi però devo anche dire per non buttarla tutta nella farsa che e quindi qui debbo per forza di cose raggelare il giorno della celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia all'altare della patria arrivano tutti quanti potenti con le macchine eccetera e dalla caffetteria Italia qui sempre per rimanere attento ai nomi ai simboli eccetera c'è uno un signore di 51 anni che boom si butta giù e muore quindi c'è questo simpatico quadretto di celebrazioni con un lenzuolo sotto al sagrario delle bandiere con questo lenzuolo e sotto c'è uno tutti che gli fanno la foto col telefonino ma insomma non si ha un'idea delle persone che si sono andate a dare fuoco letteralmente davanti ai palazzi quindi cioè non è solo e questo è molto nostro c'è un convivere di tragedie perché uno che si dà fuoco e muore è successo la scorsa estate davanti a Montecitorio e poi il tiralafone le stupidaggini manca un po' quella via di mezzo qualcuno non gradisce quello che stai dicendo mi spiace c'è un allarme sentite e mentre parlavano dell'Italia della cosa suonò un allarme è un segno vede che attenzione evocare i segni e tu fai bene a introdurre l'argomento ahimè serissimo della crisi dei dei ristoranti vuoti ai quali poi vorrei che tu dedicassi un attimo di attenzione per una cosa alla quale penso e dice perché tanti esercizi chiudono a Fermignano in provincia di Pesaro la locanda la brace c'è anche un credito internale espone un cartello in cui è scritto è consigliato perché noi non siamo un popolo violento sostanzialmente quindi non è il famoso italiano è severamente vietato perché vietato vuol dire che si può bisogna aggiungere severamente è consigliato a tutti i rappresentanti di partiti politici a ogni livello e di qualsiasi incarico di non entrare e di evitare la frequentazione del nostro ristorante è certo che poi chiudono ma allora Filippo io che ricordo dagli anni in cui facevo un po' di servizi politici tutta quella galassia quella costellazione di ristoranti che attorno a Montecitorio hanno campato per anni appunto di rimborsi di pagamento il mitico fortunato per esempio dove Spadolini credo che avesse creato una forma della seggelo con le sue corpose metteva le mozzarella nel brodo era una cosa a ghiacciare tutti questi sono avviati alla distruzione ma adesso con i gridi che contano le caramelle questi filet tartare aragoste soglio cioè se sta disperando ci saranno suicidi tra un po' tra quelli a Dona Montecitorio insomma io non so se è capitato di vedere l'altro l'altro giorno durante le elezioni del Presidente della Repubblica c'era un esponente del Partito Democratico Franceschini che stava a mangiare e c'è stato un corteo che passava vicino e l'hanno visto e gli dicevano gli hanno cantato che te vada per traverso che te vada per traverso e uno di fronte a queste cose non sa mai che atteggiamento è perché un po' fa ridere sto fatto che te vada per traverso anche perché richiama antichi proverbi chi mangia da solo si strozza eccetera però è anche vero che insomma uno deve pure mangiare cioè non è che può averci la gente che ti però ecco c'è una cioè a parte il fatto che tra cibo e potere esistono relazioni molto forti questo citazione di un suo famoso libro tra l'altro è l'occasione effettivamente di detto il potere prego anche questo è un modo di dire giusto però poi dopo certo non abbiamo vincere del fuoco chiediamo cioè Napolitano non può fare niente è la brace è la brace è la brace servizio d'ordine va tutto bene va tutto bene lei chi è quello che ha piccato l'incendio? ah no è un negozio fuori va bene quindi tranquilli ma che fanno fuori? avete un signore autorevole lei è della è della no ci rassicuriamo va bene tranquilli quindi non faremo notizie no però diciamo Bertolaso che in questi casi arrivava l'uomo che sistemava tutto quanto che dominava le emergenze eccetera è protagonista di un di un brandello qua sì sì c'è un frammento a un certo punto senza entrare nelle cose andava a farsi i massaggi al salaria sport village eh e ci sono delle fantastiche intercettazioni telefoniche in cui viene fuori che siccome lo fa questi massaggi vengono fatti a notte fonda eh insomma rimane chiuso dentro e allora telefona con l'insella e dice apri la maniglia devi girare la cosa eccetera e lui non lui è la massaggiatrice non sanno come uscire e allora deve venire quello a a liberarli insomma l'idea che l'uomo che appunto domina le emergenze rimane chiuso nel beauty center del salario sport village è irresistibile da 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 e anche quello è parte di un cinepanettone è una scena che sembra raccontata sì quello che mi ha colpito della della scena tutto sommato sgradevole della sedio a Franceschini beh sì insomma a questo ristorante non so neanche quale ma tu lo conoscerai probabilmente uno dei ristoranti di vicino a Montecitorio si mangia malissimo peraltro e c'è una vetrata no invece di acquario si mangia male e si spende poco beh però buon segno quello almeno diamo atto a Franceschini e questi che da fuori gli gridano Franceschini mortacci tu le vostre strozzate gridano e sono tutti contenti si vedono nelle facce eccitatissime una ragazza che dice Franceschini Franceschini un uomo che non suscita in me particolari sentimenti ma comunque capisco e gridano e sono tutti contenti il proprio Franceschini esce ma dai che sono ma disturbate che è lui di Ferrara ma no ma questi gli fregati affanculo cioè e se ne vanno in fondo il il vero dramma di tutta questa scena è che quelli in difficoltà e nei guai sono quelli fuori dalla vetrata non quelli dentro quelli dentro mancano tranquillamente sia pure male e hanno da mangiare sono quelli fuori che sono quelli fregati cioè credono di essere loro quelli che mettono in difficoltà quelli dentro mentre sono quelli fuori dal vetro quelli che oggi sono in difficoltà e questo è un po' il secondo me per parlare un attimo seriamente che rompimento di palle questo allarme è una cosa terribile cioè questa voglia di protestare questa voglia di di mandare di qui mandare di là di esprimere la propria rabbia la propria collera e a me visto da lontano un po' preoccupa non perché mi preoccupa bravo grazie non perché mi preoccupa la protesta la piazza figurati io ho fatto in tempo a vedere gli ultimi anni della protesta contro il Vietnam lì a voglia che te possa andare attraverso te possa andare erano bagianate e che tutto questo non sbocca mai in nulla cioè di fronte ai momenti di grandissima crisi pensiamo alla grande depressione americana a cui confronto la nostra situazione è un ballo in maschera cioè lì veramente c'erano file interminabili di persone che fino al giorno prima erano ricchi e benestanti che andavano a mangiare la minestra pubblica però produce Franklin Delano Roosevelt con un programma che si chiama il New Deal che ha un notevole successo non risolve tu ci vuole la guerra ma insomma comunque è una grande risposta del potere politico e anche del potere finanziario anche del potere bancario che pure aveva causato la crisi del 29 non dimentichiamolo niente di nuovo sotto il sole riscoppia la crisi con Bush sia la crisi morale quella politica quella internazionale la guerra l'interventismo americano l'angoscia del dopo 11 settembre bla 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 il grande crack finanziario del 2008 e l'America produce Barack Obama vi piacerà non vi piacerà non starà facendo grandi cose però comunque produce il sé tutta questa rabbia questa collera produce a destra un movimento che si chiama il Tea Party che avrà i suoi torti però rappresenta qualcosa e sta in Parlamento e Barack Obama cioè noi produciamo Grillo adesso con tutto il rispetto non è la stessa cosa io non posso immaginare che il futuro dell'Italia sia nelle mani di Beppe Grillo che fa delle cose straordinarie ha organizzato una cosa né di Berlusconi non perché io abbia niente contro Berlusconi ma perché quest'uomo ha dimostrato di non saper governare a me poi che lui si infilasse la niposa di coso lì una niposa insomma quella signorina no e quelle altre a me mi importa alla fine niente cioè è passato il momento di collera di rabbia io ho vissuto in America e sono stato amministrato da un presidente che vabbè vi devo ricordare cosa accadeva insomma ecco nello studio vale eppure quando vennero fuori tutte queste cose l'America disse beh però è un buon presidente stiamo tutti meglio di prima il lavoro c'è sembra di essere più ricchi e che se faccia sponfino da chi vuole cioè alla fine no mica è mia moglie la moglie va bene poi la moglie no sono stati anni durissimi per un giornalista perché trovare espressioni che evitassero inghiottire che era difficilissimo l'abbiamo superato felicemente quindi ma questi hanno fallito nel loro lavoro cioè che è quello di governare al di là di ogni altra nipote di Mubarak qualcuno ha fatto una battuta dicendo il Parlamento voterà sul fatto che Letta è il nipote di Letta no li continuiamo con la segna no perché noi non riusciamo a produrre un un Letta Letta è il nipote cioè Rubiletta no Rubiletta si può chiamare stimabile non ho niente contro di lui ne ho sentito dire cose terribili nei suoi confronti tornando dall'America venendo dall'America due giorni fa tre giorni fa ho già detto anche ieri scusate se mi ripeto volavo con un aereo un Boeing 767 dell'American Airlines sono atterrato ho detto ma forse ho volato su una macchina del tempo perché torno in Italia e trovo un governo democristiano cioè mi pareva che trovavo i tempi quando avevo mio padre deputato dell'ADG 30-40 anni fa ecco perché noi non riusciamo a produrre altro che questi personaggi che sono chiaramente personaggi non all'altezza dei problemi nazionali che dobbiamo affrontare almeno sembra uno perché non l'ha fatto e l'altro perché è una specie di sortileggio effettivamente è questo cioè come nelle favole ci siamo punti indietro la strega si è persa la memoria dei guai che possono succedere se uno fa delle cose sbagliate evidentemente è come quando si perde il ricordo dell'eruzione o del terremoto e si costruiscono le case dove non si devono costruire come si non devono essere costruite e quindi si sono dimenticati quei 4-5 principi che poi sono successe cose che hanno a che fare con fenomeni più grandi in Italia è venuto meno in pochi anni i partiti di massa la grande industria la legge elettorale proporzionale la lira è accaduto tutto molto rapidamente evidentemente su un substrato di fragilità quindi però l'impressione che ho io l'impressione almeno perché poi dopo aver notato dopo aver alimentato e nutrito i sensori su certe cose che sono più che attengono più alle forme che alla sostanza delle cose io ho avuto come la percezione che diciamo nella paralisi di contemplazione di questo disastro buffo che è sotto gli occhi di tutti noi che una figura come Grillo se la sono chiamata loro come si chiama un castigo di Dio nel senso che a forza di fare i buffoni come uno ha scritto per appunto settecentosettantasette e allora la battuta la spiritosaggine la barzelletta i colpi di sonno non il burlesque la gara di burlesque perché lì c'è un tocco di genio nelle cose a forza di fare i buffoni ma tutti è arrivato il buffone vero il buffone professionale il comico che ha i tempi i ritmi la capacità l'energia la voce Grillo è un fenomeno straordinario nel senso che prima parlavamo della campagna elettorale ieri era la campagna elettorale configura poi tutto quello che è successo ci sono dei filmati di Grillo che si butta in mezzo alla folla che nuota sulle teste delle persone quindi per dire che uso fa del suo corpo mentre invece figure che in qualche maniera avevano per un attimo non dico riscattato la 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 italiana come Monti e nel giro di un mese e mezzo stava con una bestiola in braccio con la birra e la comica che gli chiedeva se la moglie aveva letto 50 sfumature di Grillo cioè era rapidissima la caduta nel negli schemi nei moduli di una classe politica che evidentemente va incontro al pubblico per farlo ridere per suscitare simpatia e quello era quello dell'uomo della sobrietà insomma quindi è sai io non sono particolarmente sensibile a questi gesti simbolici perché che un deputato si tolga 2000 euro dallo stipendio lo so che forse voi direte questo dice le cretinate ma non cambia niente nella mia vita neanche nella vostra sono gesti risparmiamo alcune centinaia di migliaia benissimo ma a me interessa quello che guadagni tu non quello che guadagni l'onorevole certo se poi esagera è chiaro che diventa osceno però ci sono cose alle quali si dovrebbe essere sensibili io ho visto l'altra sera un piccolissimo filmato non mi ricordo più perché poi si fa un calderone guardando i talk show servizio pulito piazza pubblica porta sul di dietro la finestra sul cortile capisco più una mazza poi sono sempre quelli che girano che protestano vabbè vedo un'intervistina a Bersani fatto da quello si deve essere uno di Santoro uno piccolino tutto Bertazzoni Bertazzoni ma il tenace Bertazzoni che riesce ad acchiappare Bersani in una stradina lì vicino a Montecitorio c'è un uomo vorrei sapere come si sente dal punto di vista umano ma figurati non vorrei sapere se è il partito allora Bersani ma sì ma sì ma adesso il partito dice un paio di cose senza senso dopodiché si avvicina una BMW 5 blu con l'autista lui sale dietro saluta e se ne va allora in quel momento dopo che hai dato le dimissioni non c'è niente di scandaloso quello probabilmente ha un contratto di un anno l'autista vai in tassi non ti fai vedere che sali su un'auto blu lo so che non significa niente però non lo fai non ti fai vedere tra l'altro da uno che fa un servizio chiaramente per metterti in difficoltà perché te l'ha fallito il partito sta perdendo sali su questa bella BMW blu si sente il rumore anche della portiera che non è quel clank che fanno le nostre macchine quel bel rumore grasso pieno che fanno le macchine ben costruite dai tedeschi e se ne va cioè sono errori fatali questi qui cioè fassina in televisione non ci deve andare più cioè quelli del PD dovrebbero fare un piccolo la persona tra l'altro vi racconto questo piccolo episodio noi per Repubblica TV no? facciamo degli speciali mi ha fatto lo speciale elettorale io ero a Roma per Radio Capital allora Laura Pertice che è la nostra anchor woman diciamo montarci la testa faceva continuamente a rotazione chiunque avesse voglia di dire qualcosa perché non è facile e vado dentro con Fassina andiamo Fassina la Pertice e io finalmente alle tre chiudono i seggi quando è le due ah no alle tre arrivano le prime no proiezioni exit polls i sondaggi di uscita che noi chiamiamo chissà perché exit polls quando esiste i sondaggi di uscita ma suona meglio detto in inglese anche il tigione ha imparato a dire una volta li chiamava exit pool che voleva dire piscina d'uscita per cui io vedevo tutti questi elettori exit poll benissimo allora dice exit poll ecco ecco dice Laura la nostra giornalista i risultati sono il PD 34% PDL 36% Grillo 23% cosa dice allora Fassina dice ah beh certo un chiaro mandato il marchio il governare il cambiamento la cosa passano 20 minuti la Laura aveva davanti a sé un tablet ah dice aspetta scusate scusate sono arrivate le prime proiezioni le proiezioni sono una cosa più seria perché sono basate su voti espressi non su quella che esce signora per chi ha votato il partito da bistecca no quelli sono basati dice ecco exit poll dice allora sono PDL 30% PD 28 nel momento 5 stelle 26 allora Fassina dice no perché vedo che comincia disparatamente allungare la testa verso forse è sbagliato la stessa Pertici aveva l'impressione di essersi sbagliata a leggere cioè questo povero uomo era rimasto di senza parole allora dice beh certo questo può cambiare un po' la prospettiva politica minchia gli ha rovesciato tutto cioè vedevi queste persone che chiaramente non capivano più il mondo nel quale vivevano cioè erano veramente i marziani di formigoni non so se arrivati sulla terra o i lombardi alla prima spedizione spaziale e quindi io ho l'impressione quando vedo non voglio prendermela con Bersani è veramente un maramaldeggiare oggi e poi ha detto qualcuno in fondo lui ha vinto tutto perché ha preso il presidente della Repubblica del PD la presidente della Camera il presidente il primo ministro cioè in altri posti sarebbe portato in trionfo invece lui viene giustamente trombato perché l'Italia è ovviamente questa cioè non hanno la sensibilità di queste piccole cose che ci danno fastidio ci vuole cacciare via signor no dice se vogliamo delle domande sì assolutamente sì delle domande gentili quanti anni ha quanti come stanno i miei nipotini queste cose qui lui ha una deliziosa e bravissima moglie una collega quindi prego passate il cono gelato salve vorrei fare una domanda ho trovato molto interessante il paragone che avete fatto si può alzare grazie niente ho trovato molto interessante il paragone che avete fatto tra l'America e l'Italia rispetto alla nostra incapacità di produrre del nuovo o il meglio che possiamo produrre è grillo nei momenti di crisi mi è piaciuta l'espressione che lei ha usato di questa eccessiva contemplazione del nostro disastro quindi mi chiedevo se non fosse proprio questo il problema lei forse me lo potrà dire cioè quanto forse noi siamo più bravi ad analizzare i nostri disastri molto di più di quanto magari non lo facciano in America in cui non si concentrano tanto sul problema ma producono direttamente il cambiamento e infatti il nostro cambiamento è colui che sa al meglio denunciare il disastro e questo insomma posso accennare io come no beh la meglio beh insomma se puoi parlare per pochi minuti non possiamo fare seminari di politologia comparata è evidente che noi italiani siamo ma anche storicamente culturalmente un popolo con una grande capacità di analisi e una scarsissima capacità di sintesi noi brilliamo nell'analisi magari anche nell'autopsia e continuiamo a dire ma perché nel 48 vabbè il 48 è finito poi la sintesi gli americani hanno il vizio opposto cioè ti dicono va bene va bene sei d'accordo e mo che facciamo il problema è sempre quello ecco perché molto spesso gli americani commettono errori come partire andare a fare la guerra in Iraq in un paese che non c'entra nulla con l'11 settembre perché c'è questo bisogno di si dice in inglese do something about it fai qualcosa c'è un problema di povera fai qualcosa magari di sbagliato ma fallo la nostra risposta e l'avete vista anche in questi giorni classica è grande analisi 848 editoriali 47 mila perché che c'è dietro ah 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 che c'è dietro dopodiché quando proprio sei arrivato per tornare al movimento di scatologi con la merda fino alle orecchie che se fa la grande risposta italiana è si nomina una commissione no ma adesso aggiungerei che se gli americani poi possiedono una cospicua addirittura dei settori di librerie dei libri che ti insegnano come fare no? come smettere di fumare come non di sperasse quando te lascia la moglie eccetera come lasciare la moglie come lasciare la moglie farla franca e noi invece ci abbiamo grazie no il tipico del nuovo diciamo il giornalista politico in mezzo al al disastro cosa sta cercando di quali griglie interpretative me ne accorgo perché è il riflesso mio insomma per interpretare questa realtà dove non ci stanno più le appartenenze le culture politiche sono finite eccetera i psichiatri questo è l'ultima cioè il sistema è impazzito e allora si studiano le dinamiche psicoanalitiche o sulla famiglia e funziona tiene la cosa perché se voi guardate la riconferma di Napolitano è la riconferma di un nonno evidentemente c'è un modello di autorità paterna che non funziona più c'è un figlio Renzi che vuole fare c'è un padre adolescente come Grillo che dice le parolacce e c'è un nonno c'è uno zio adesso e c'è un nipote sempre da noi nonni venite a caricare i bambini quindi voglio dire questo è vero quello che passa oggi l'interpretazione politica è una resa è una resa però è questo che oggi abbiamo il governo di famiglia cioè stamattina Letta Berlusconi e Letta cioè lo zio e il nipote hanno sicuramente io credo facilitato questa cosa nel frattempo avranno anche nominato i cosi e letto chi c'è chi non c'è ma insomma è per dire che il sistema è impazzito sul serio e quindi in qualche maniera noi italiani ci troviamo lì a strologare su dinamiche appunto che attengono allo studio della mente umana del cervello eccetera sì ma allora la questione chi è che si fa avanti per dire perché per quanto alcuni di noi possano non avere particolari simpatie per Grillo però certamente è uno che si è fatto avanti questo è un dato di fatto la risposta degli altri che cosa sta la Bindi cioè no dico vabbè non voglio approfondire no vabbè non volevo strappare un applauso facile ma io dico sempre che ci sono alcune cose che quando io morirò e naturalmente andrò in paradiso perché è evidente e questo mi pare ovvio ci saranno alcune cose che voglio sapere finalmente dove andiamo dove andiamo chi ha davvero ucciso Kennedy l'11 settembre e che cazzo ci fa la Bindi cioè perché in politica italiana ci deve nel 2013 essere Rosi Bindi e letta vi lo faccio notare come derogata dalle norme del PD stabilite da Bersani che è la prima a ribellarsi contro Bersani questa è un'altra delle grandi ma fino a ieri poi era percepita come una figura più che rispettabile è dell'altro cioè è di due anni fa quando lei con Berlusconi si vede questo faccione dei Rosi Bindi che è un po' bulla quindi sa come risponde disse a Berlusconi presidente io non sono una donna a sua disposizione il giorno dopo c'erano le magliette non sono cioè in realtà è anche nella tragicomedia italiana è anche vero che le figure si presentano nell'arco di un tempo abbastanza rapido secondo prospettive completamente opposte Berlusconi rischia veramente di essere il padre nobile di questo governo quello che però Vittorio la cosa impressionante è che anche solo due mesi fa stava chiuso dentro un ospedale con l'uveite e la visita fiscale cioè in realtà è anche avvincente questa vicenda di per cui quello che stava con i medici che gli dicevano tu adesso facci vedere che stai male sul serio oggi è il trionfatore e quindi è siamo in qualche maniera anche ipnotizzati da questa da questa realtà nella quale allora forse ci piace forse ce la meritiamo abbiamo commesso o abbiamo il complesso della donna picchiata quella che non ha il coraggio per anni e per anni di denunciare il marito e magari si colpevolizza dicendo ma forse sono io che faccio qualcosa lui è un bravo uomo ogni tanto è un po' manesco però in fondo è un buon padre di famiglia sappiamo benissimo quanto è difficile per una donna picchiata maltrattata in casa avere il coraggio di ribellarsi e andare a denunciare il cogno noi abbiamo il complesso della moglie picchiata la sindrome la sindrome di stoccolma la sindrome di stoccolma chiamiamola così però c'è una domanda che ti devo fare adesso ma Berlusconi diventa presidente della repubblica se vince le prossime elezioni dimmi la verità dimmi la verità Filippo allora te la faccio più facile la domanda Letta diventa presidente della repubblica perché questa è una fesseria che ti ho chiesto naturalmente non lo puoi sapere lui continua a sperare di manovrare anche oggi in termini di questa esperienza di governo per rivincere le elezioni con una legge diversa tra un anno e mezzo due e puntare al Quirinale lui non ha mai smesso l'idea di arrivare un giorno al Quirinale visto che ci si arriva anche 88 anni anche perché poi è uno che diciamo ha sette vite quindi questo tre prostate sette vite insomma non lo so sì credo che sia questo il suo obiettivo però insomma può succedere di tutto questa è è un paese nel quale può ancora succedere di tutto signore col cappello volevo ricollegarmi proprio a quello che diceva che diceva ma forse la colpa è nostra e su questo voglio dire che infatti anche secondo me diciamo che noi italiani siamo un po' tutti campioni di retorica no? ma poi diciamo quando un giorno un mio amico new yorkese mi disse questa cosa che sto per dire secondo me aveva gran ragione che disse voi italiani non è che capite di politica siete tifosi in realtà abbiamo un po' questo questo fatto di prendere un partito e poi seguirlo per sempre diciamo più con lo stomaco che con la testa diciamo secondo me alla base di questo c'è un problema culturale un po' secondo voi diciamo che cosa ci rende rispetto ad altri paesi più deboli cioè meno capaci di intendere la realtà perché diciamo nel momento in cui ci lamentiamo del fatto che in altri paesi basta di meno per dimettersi e anche perché si sente il rumore dell'opinione pubblica e quindi caspita se ci si dimette perché in Italia non succede quante colpa anche dell'elettorato non solo della politica Filippo ma sono cazzi tu e beh insomma attiene a carattere nazionale non è io a volte ho come la sensazione che noi ci vogliamo divertire prima di qualsiasi altra cosa è terribile da dirsi perché poi ripeto non si non si sta mai veramente allegri ma la risata e l'euforia ridanciana te la danno loro nel senso che se ripenso a che cosa è stata tutta quanta la cosa dello smacchiamento del giaguaro addirittura diciamo i funzionari del partito democratico sono saliti sull'astrico solare del palazzo dove c'è il partito e hanno fatto una specie di danza tribale smacchiamolo smacchiamo e hanno fatto pure un film e io lo so per questo quindi c'è c'è qualche cosa che ha a che fare con la nostra con il nostro carattere con il nostro essere vistosi la lontananza però direi se dobbiamo fare un discorso di cose più gravi è la lontananza dalle tragedie vere ci ha fatto dimenticare in fondo la generazione dei nostri dei nostri padri ha fatto un miracolo ha ricostruito un paese distrutto come c'era un morto o un prigioniero in ogni famiglia hanno fatto hanno ricostruito tutto quanto hanno non hanno fatto la guerra civile hanno fatto una bella costituzione ma perché il ricordo dei drammi era ancora vivo poi man mano che è arrivato il benessere eccetera dal basso non arriva più nulla questi si sono sistemati hanno come dire stabilito un regime di facilitazioni in cui la classe politica non pensava che il potere poi in realtà come deve essere come una spada sopra la testa loro volevano fare bella figura facevano gli spiritosi andavano a porta a porta e nel frattempo succedeva quello che succedeva quindi è colpa di Vespa sono d'accordo no no sono assolutamente d'accordo diciamo anche il fatto che diciamo l'uomo l'oracolo che dava conto delle opinioni degli italiani noi fosse poi un tento ad altre cose c'è anche un'altra cosa Filippo scusa io ti imballo un po' la meri noi dimentichiamo che non mi risulta corrigetemi se sbaglio l'Italia abbia mai avuto una vera rivoluzione una vera rivoluzione con teste di re tagliati si ne ammazzarono uno di re ma era un anarchico l'individuo ma insomma non si è mai portato fino in fondo la rivoluzione non si è mai portato fino in fondo neppure la sconfitta militare siamo riusciti a uscire per un soffio con l'8 settembre per cui ci prendono in giro avete cominciato una guerra con l'uno e finita con l'altra non abbiamo combattuto a 100 metri da Palazzo Venezia come hanno fatto i soldati tedeschi alla fine di aprile del 1945 che ancora morivano con Hitler cioè il nostro mi sono divertito di definire in un mio libro il paese della rivoluzione interrupta cioè il salto del giaguaro ma in quel senso lì al momento di cui c'è uno zompe ma noi ci mettiamo d'accordo non dimentichiamo che l'America di cui lo diamo il senso pratico il senso civico cioè per decidersi di essere America si è fatta fuori 650.000 persone dei propri abitanti cioè la guerra civile americana avete visto Lincoln il film avete visto ha prodotto delle stragi inimmaginabili 650.000 morti in un paese che aveva 80 milioni di abitanti non è l'America di oggi che ne ha 310 milioni sono morti i fratelli combattevano contro i fratelli i madri non riconoscevano più un figlio preparavano le bende per l'altra c'è ancora della gente ho visto i documentari stupendi che oggi sudisti quando si nominano certi nomi di generali del nord ho visto una gentildonna che avrà 90 anni quindi ho detto no dato l'intervistatore per cortesia quello è un nome che in casa mia preferirei che non venisse fatto cioè 1865 è finita la guerra civile quindi hanno pagato un prezzo altissimo per arrivare a dire ah raga forse qui magari troviamo una soluzione sì se Nixon va bene lo cacciamo via e poi c'è un'altra cosa io sento tanto parlare in Italia di questi famosi poteri forti ecco io vorrei che un giorno qualcuno mi dicesse dove sono i poteri forti io vedo quello che in Romagna si chiamano squacquerone che è una specie di stracchino particolarmente una pappocchia sì c'è il Vaticano è davvero un potere così forte oggi il Vaticano impicciato con me gli ori i casini propri eccetera dove sta le banche le banche sono tutte lì che devono implorare dallo Stato che gli facciano la flebo perché altrimenti vanno sott'acqua cioè dov'è negli Stati Uniti a un certo punto esistono davvero i poteri forti quando il presidente Nixon sta mandando in malora l'America e sputtanando la Costituzione è uno dei suoi vecchi di partito che si chiamava Goldwater che va alla Casa Bianca e gli dice senti Riccardo è molto ne devi dannà perché sennò qui andiamo a fondo tutti eh no ma io è un torto lascia fotte tu te ne devi andare e infatti se ne va e l'America riprende il cammino cioè chi è che oggi in Italia può andare da Berlusconi può andare da Grillo se diventasse una cosa pericolosa magari non lo diventa e dire beh adesso basta ragazzi tu caro Grillo hai avuto un grande successo 25% beh se vuoi cambiare vediamo di metterci d'accordo con quelli che vada non c'è nessuno che è Montezze ma dico ragazzi ma oh ma siamo la Fiat la Fiat sta in piedi perché ha preso 6 miliardi da Obama mica perché Marchionne ha salvato gli stavolamenti di Pomigliano quindi io vedo uno spappolamento di poteri deboli un po' meno deboli un po' più forti cioè vedo delle lucertole dice Berlusconi è un caimano è un lucertolone Berlusconi nel mondo l'unico invitato in Texas per la apertura della biblioteca di Bush dove io ho scritto hanno colorato insieme il libro lui e no perché la biblioteca di Bush è un ossimoro francamente non ci risultava quindi questo è curiosamente un altro elemento di preoccupazione forse ha ragione lui dobbiamo raccogliere dei frammenti e può dire da questi frammenti poi alla fine noi sopravviveremo noi sopravviviamo sempre sopravviviamo sempre non è vero? Evviva grazie Filippo grazie leggete e diffondete come si diceva una volta dell'unità grazie a tutti oh grazie a tutti